Andrea Mamma mia Andrea Io sono qua seduto sui scalini Sono tristissimo Siamo amici da tanti anni E non passa una gnocca Che sia una Non ne vediamo mai una Sono tua amica eh Ciao chi siete? Sono Manu Andrea Sei convinto di quello che stai facendo? Purtroppo sì Pensaci Due frustini al prezzo di uno Tra l'altro mentre un delle due si sedeva Io ho dato una sbirciatina perché è buono sì ma fesso no Non porta una mutandina E io ti sfido a indovinare quale delle due non la porta Che fai? Guardi negli occhi? Ci sto guardando Perché voi dovete sapere caro pubblico Che Andrea purtroppo siamo amici da anni anni Che dico anni dal triassico Si sposa Quando? Il 20 giugno Il 20 giugno? 16 16 giugno Ma siete arrabbiate voi perché si sposa Perché Tant'è vero che queste ragazze Sono convinte che lui ce l'ha Lungo? Lungo e secondo te? Duro? Duro Quindi l'hanno già assaggiato Andrea Diretta a me a DJ Carlone Ripensaci ma ripensaci Fai un annuncio di che fai? Mi sposi o non mi sposo? E io ci penso Ma con chi ti sposi per mollare queste due? Con la ragazza Brava Si parte sempre così Dicono tutti così bravi Poi anche queste due erano brave Poi sono andati nel reparto di frutta e verdura Ha cominciato con le zucchine, melanzane Tant'è vero che lei si è lamentata Dicendo ma quanto cavolo costano queste melanzane Che continua a aumentare i prezzi Tant'è di DJ Carlone? Io Andrea Passa le zucchine Cosa? Diamo i saluti Ciao Sì Ciao Denise Andiamo sulla panchina numero 20 Che si sta più liberi Ciao ragazzi Ciao ragazzi